Fere, stai importunando le pecore come sempre Ma non è vero che l'ho seguito loro, non ho fatto niente, io sto ferma qui Ogni volta gli dà da mangiare così, lo seguono e fa finire la regione degli animali Comunque, Fere, è una cosa importantissima Ho fatto una piccola modifica al mondo, ok? Cioè? L'ho reso facile, 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 ma proprio facile, facile, ma super facile, ma proprio facilissimo Come l'hai reso, Steph? Facile Ah, ok, non l'ho capito bene Eh, lo so, lo so che non capisci bene Praticamente, è proprio facile, non so come dirtelo, Fere È facile, quindi provalo e mi dirai, Steph, ma è proprio facile, come questo video Ok E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Steph, che stai giocare a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft E giocheremo in un mondo facile, giusto, Steph? Il mondo dei noob, Fere, chiamiamolo così Ah, ok, il mondo dei noob Quindi sei un noob, lo stai ammettendo, Steph, che tu sei un noob No, sono un pro che ha creato il mondo per i noob Per Fere, per Fere Steph, non ci provo Sei tu, sei tu che Ti scateno il mio esercito di pecore, Steph Non ci provo Ti devo rendere la schiaffa Hai toccato le mie pecorelle, Steph Vieni qua, per tutti i sgraziati Ecco fatto, stiamo pari Ok Quindi, cosa andremo a fare oggi, Steph? Beh, dobbiamo giocare a un mondo di Minecraft normale Però noterei delle differenze sostanziali Funziona così oggi Ok Ok E direi, Steph, basta Basta, basta Ti hai tempo zitto Ti mostra Tu di solito come prendi la legna? Ti avvicini A mani nude E inizi così due ore Ok E se ti dicessi È giustamente la parte più noiosa Che con una testata Puoi prendere la legna Dai una testata Anche con questo Sì, sì Guarda Aspetta, aspetta, aspetta Ci mette un po', eh Sì, è un po' Bisogna dargliela bene la testata Adesso con solini Verrò tutto il mondo Con degli alberi un po' bucati Perché fare dalle testate ovunque Ce l'hai fatta tu Sì, sono molto brava Disgraziata Aspetta Eh no, quello è troppo Quello è alto No, perché il segreto Non è che lo devi guardare Devi proprio andarci di capota Eh, lo so Di pronte, capito Come un vero noob Comunque Non ha voglia di distruggere la legna Ma di nude ci va di testa Questa è la prima cosa Che si fa su Minecraft Prende la legna Di solito è lentissimo Noiosissimo E invece abbiamo trovato la soluzione Ok Delle belle testate E risolviamo Adesso Trasforma la tua legna Ok Non mettertela in mano Ok Tu quindi hai trasformato la tua legna Cos'è la seconda cosa Che fai su Minecraft Vanilla La crafting table ovviamente Ok, metti Il cursore Sì Il cursore sopra la legna Ok Vado Vai Oh mio Dio Fammi vedere cosa hai fatto Oh mio Dio Io non ho fatto nulla Faccio vedere le consolini Cioè fallo anche tu Dividila e fallo vedere Che assurdo Dividete Mettete il cursore su 9 E si crea in automatico la crafting table Prossima cosa Io inizio ad avere un po' di fame Non so tu No, per niente No, io ho fame Allora tieni questa spada Ok Qua abbiamo un bel asinello e delle pecore Ok Non lo voglio fare Lo so Infatti non attaccarle Avvicinati No dai Gli faccio del male Lo so già Do una capoccia pure a loro Allora non avvicinarti Così tanto a dare una capoccia Ma avvicinati Senza attaccarlo Non lo devi attaccare T'hai visto anche tu Steph Non sono stata io eh Non ero io Steph Hai visto che non ho mostrato Beh allora avvicinati anche a questa povera pecorella No dai Steph Beh se non eri tu devi dimostrarlo Sono diventato un assassino di animali Te lo devo spiegare Ho già capito da sola Dio Steph Non lo voglio più Quindi come hai capito Quando hai una spada in mano Se ti avvicini a un mob Lo ammazzi Mi è venuta un'idea Sì Stai fermo Spero che non funzioni Non funziona Vabbè stato troppo bello Però tu dovresti essere ucciso Più degli animali Hai notato anche quanto droppano? Di più Non ci ho fatto caso Perché la carne è sconvolta Questa è tutta la carne Che abbiamo fatto al momento E questa è tutta la lana Che abbiamo fatto al momento Siamo a posto per un mese così eh Lo so lo so Comunque c'è da dire Che almeno ti fa risparmiare Sì sì Risparmi negli animali Non distruggi l'ambiente Comunque guardate Consolini eh Io corro dritto Non sto facendo sinistro né nulla Mi avvicino Opla Ed è andato Fatto Sistemato E ti dà un botto di lana E ti dà un botto di lana Sono già 30 di lana Potrei farmi 42 letti Comunque questa è un'altra cosa Adesso Fede Possiamo scegliere due O andiamo a scavare un pochettino in miniera Oppure ci mettiamo a fare Un bellissimo Una bellissima coltivazione Cosa vuoi vedere prima? Andiamo prima in miniera Ok Quando vai in miniera? Cos'è quella cosa Che ti serve sempre E che non trovi però sempre? Proprio quella cosa Che ti serve sempre tantissimo? Non sono le torce vero? Sì Sì Sono le torce Era giusto Sì Perché hai detto che non la trovi sempre Perché in realtà le devi costruire Quindi secondo me mi stavi un po' No vabbè intendevo il carbone in sé Perché hai bisogno della luce Capito? Sì Certo Io sto andando da retestate Te lo dico a me È molto comodo Io lo trovo molto divertente Non piace Hai del cibo Stef Mi è venuta fame Ma crudo me lo vuoi dare Quindi il nostro problema È avere del carbone Ci servirebbe per andare in miniera Ci servirebbe per allontanare i mostri Ci servirebbe in questo momento Per cucinare con la carne cruda Che uno spreco Che è uno schifo oltretutto Stef È uno schifo Esatto Noi creiamo una bellissima fornace No In regola ci sembra normale È una fornace che però va alimentata Ok Io adesso Guarda eh Non sto facendo nulla Voglio vedere Ho questa fornace in mano La piazzo La apro E non c'è Non ha funzionato Ci dovevano essere 64 di carbone Qualcosa è andato storto Qualcosa è andato storto Sì Aspetta Cancelliamo le prove Fere Nessuno avrà mai visto questo Riproviamoci ok Aspetta adesso mi hai dati Aspetta vai Allora la rimetto Forse devi aspettare un po' No ma aspetta Non è che se io Ogni volta che distruggo La fornace Dici che la devi distruggere No secondo me Si era flipata Ok Però abbiamo 64 di goal La piazziamo qua a fianco E non ce l'ha Dalle una testata Secondo me funziona No E guarda sono apparsi Sono apparsi La testata ha funzionato Stef Allora penso ovviamente Testata e scherzi a parte Che compaia dopo un po' Che compaia dopo un pochino Cioè tu la lasci E ti appare dopo qualche secondo Il carbone Capito Non è istantaneo Devo togliermi l'ultimo Scusate ma devo togliermi l'ultimo dubbio Perché non è possibile Ma dai l'abbiamo visto No Fere 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 Stef ha bisogno di capire Perché teoricamente Potevi essere stata tu a metterlo Magari mi stai ingannando Ma non è vero Dove l'ho tutto fuori Stai lontana Non c'è Aspetta Stai lontana Aspetta 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 Ricontrollo Non c'è Stai lontana Vedi che Raffaele Vedete vedete Io avevo ragione Secondo me devi dare la testata Funzione Non c'è Stai allontanati ancora di più Perché Nel momento Se no io non vedo Do la testata Ok Guardo È la testata È un mondo che funziona Testate questo È bellissimo Ma io non ho parole Ma io non ho davvero parole Beh sì Se anche gli alberi li distruggi così Secondo me È un mondo fatto per fare È un mondo fatto per fare Allora Infatti penso che non uscirò mai da qui Stef Adesso È un mondo bellissimo Ci servono dei semini Fere Perché abbiamo bisogno di fare una coltivazione Quindi Inizia a spaccare un pochettino di erbaccia Dimmi Io mi cucino la carne Bello Prendo la tua cotta E metto le altre fute Prendila che mi serve infatti Allora No ma la sono presa tutta per me Allora 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 In realtà la cosa più carina sarebbe Ok Se noi trovassimo Un villaggio Però dai pazienza Alla fine così è più natural È più vanilloso Adesso Io ho un po' di semini Perché cosa succede se troviamo un villaggio Ma mi incuriosito Eh Lo vedrai dopo Lo vedrai dopo Andiamo vicino a dell'acqua Lo andiamo a cercare Vieni 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 Qua c'è dell'acqua Quindi possiamo sfruttare questa Per fare una bellissima coltivazione Allora Noi andiamo qua Tutto in regola per adesso Nel senso Classica cosa Stiamo prendendo i semini E li piantiamo Giusto Ovviamente Non c'è nulla di particolare Facciamo così Facciamo così Facciamo così La facciamo abbastanza grande Eccetera eccetera Adesso Io ho i miei soliti semini E li pianto Ok Ok Anch'io ne pianto due Vai pianta 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 Nulla di strano Giusto Gli diamo una testata e crescono No No Allora Tieni in mano questo Ok Avvicinati alla piantagione Ok Oddio Oddio Steph è incontrollabile Fai che tu devi crescere Sennò mi fa fa brutta figura Vai Cresci Cresci Ti piace? Sì Molto Il potere sia me È bello È stra divertente comunque E comunque devi avere anche un po' Un contatto visivo Quindi alla fine Sì In parte c'è anche la questione Della testata Sì È il potere del noob Quando guardi Ti Ti snubizza tutto davanti Perché è quello che succede È quello che succede totalmente Io volevo giusto un villaggio Per farti vedere tutto Patate Tutto Però comunque in linea generale Lo hai visto Funziona tutto al stesso modo Sì Certo E arrivederci Grazie Allora Fere mi serve un attimino Un po' di legna Quindi vado a dare qualche testata Perché adesso ti devo far vedere Un'altra cosa divertente Quindi Perfetto Prendi anche tu un po' di legna Se riesci Giusto per Che comunque fa sempre comodo Sono stato velocissimo Con le testate Questa volta Sto migliorando Sto imparando a dare le testate Stai diventando un perfect noob Esatto Allora Perfavor Creami La mia bellissima crafting table Grazie Adesso Devo ricordarmi un attimino Come si fa Perché Devo fare un oggetto Non ti voglio dire quale Ok E devo ricordarmi Come si fa Però secondo me Era Così Yes Ok Fere vieni Ok Sei pronta Sì Mi dai un po' di carne Sì Grazie Ok Ferma 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 Mangio Ok Allora Io adesso metto Un cartello Ok Ok E scrivo Nether No Portal No E non succede nulla Lo dobbiamo Prendere a testate Lo so Ecco qua Vada pure No Eh sì No Eh sì No Fere È il mondo Dei nub Allora Questa comunque c'è da dire Che è una nubata Incredibile Perché è difficile Quanto è difficile da creare Creare il portale E invece qua scrivi Ti avvicini Cioè qui dà una testata Un cartello Ed è pronto Cioè ma ti sembra Allora Andiamo Non puoi avere paura In questa modalità Fere è tutto ok Perché secondo me C'è l'inghippo C'è sempre l'inghippo Non c'è l'inghippo Non sai come quando ti propongono Per telefono Per email Quelle offerte Che sembrano strafighe E in realtà Ti prosciugano il conto in banca Sembra di quelle Non si fila mai Non si fila mai Allora Benvenuta Ma io non riesco a entrare Steph Devi stare fermo Eh due ore a caricare Così e non entro Io volevo controllare Ok ce l'ho fatta Se sui poveri pigmen Funziona L'abilità della spada Vediamo Sì che funziona Oh sull'ora è bello Spam Sul l'ora è bello Così Basta andargli addosso Bellissimo Vieni qua Spim Con una semplice spada di legno Correndo dritto Ok allora Ridicolo Quindi Non hai più paura Di un posto del genere Con un po' a terre del genere Come puoi avere paura Vieni No No Qua succede nella lava Non lo puoi sapere Devi trovare Devi fidarti di questa moità Se non ti butti Non ti fidi E non scoprirai mai Hai preso danno Sì Hai paura? Eh prendo danno ovviamente Quindi che devo fa' Devi lanciarti nella lava Devi crederci No Steph Ho già preso danno Stalendo solo sul magma Li vedi? Metti F5 Perché sto salita così in alto Metti Forse ti danno pure un buff per volare Sì Questo non lo sapevo Sì 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 Provalo provalo Aspetta Allora Andiamo Ma li visti che belli cuoricini È fantastico Comunque devo dire che questo è il mondo perfetto eh C'è da dirlo La lava non ti fa male Tutto semplice Strabella Ah bene Poi è bella la lava Ha un suo fascino Quindi sono contenta che finalmente non mi faccia male Beh solo a te può piacere la lava Anche se poi il magma fa male Quindi su quello non salire Steph Beh sì lo so Lo so Poi si salta un botte Visto quanto si salta Sì sì è livello Uh guarda eh Woohoo Ok Ragazzi Sieteci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per noi per i miei miei altri episodi Ciao Alla prossima Ciao